Dominio totale. Quinta vittoria in Superlega per Sirsafetti Susa Perugia, capaci di espugnare l'eurosuolo e forum di Civitanova nell'anticipo dell'undicesima giornata, superando il rimonte in quattro set i padroni di casa e i campioni d'Italia in carica della cucina Lube Civitanova per tre punti che consentono ai perugini di proseguire la propria marcia in vetta la classifica a più 5 sul duo Cisterna Trento. I cucinieri fanno proprio il primo set 25-20, ma i bianconeri conquistano ai vantaggi 25-27 il secondo parziale e poi giocano con buona qualità terza e quarta frazione, terminate 18-25 e 19-25, grazie soprattutto ad una fase break di grande livello. 18 punti con tre Ace per Semeniuk, doppia cifra in casa bianconera, anche per Leon con 15 punti, Flavio con 11, oltre che per Herrera, autore di un inside game notevolissimo con 14 punti a referto il 67% sotto rete. Adesso per Perugia si apre la caccia alla Supercoppa italiana, primo trofeo stagionale in palio. Sabato partenza alla volta di Cagliari dove andrà in scena, lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, la Final Four della competizione. Lunedì alla Pala Pirastu, prima semifinale alle 17.30 tra Civita 9 e Modena. Alle 20.30 toccherà invece ai Block Devils duellare contro Trento. Bisogna essere positivi, non montarci la testa perché è una vittoria, è vero, però insomma la cosa che mi piace di più anche questa sera è la rotazione dei giocatori, Herrera che è entrato un po' in soggezione e poi ha giocato molto molto bene, quindi abbiamo un giocatore importante in più. Picci che aveva avuto una partita difficile a Padova, oggi in ricezione è stato meraviglioso. Insomma abbiamo avuto tante situazioni realmente interessanti e penso che andiamo e torniamo a casa con serenità e pronti per affrontare la prossima sfida lunedì con Trento. Si va lì perché vogliamo provare a vincere la Supercoppa, abbiamo una partita difficilissima in semifinale, ma è giusto che sia così e quindi niente, la squadra è carica, secondo me possiamo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto stasera, un po' in tutti i fondamentali, in tutti i reparti, quindi abbiamo margini e niente, ce la giocheremo.